amiche e amici mal maturi questa sera abbiamo il piacere e l'onore di ospitare nel salottino mal maturo la nostra fan numero uno un'ex campionessa di moto in acqua e libere atleta del team ultra vericus e supportata del brand ferrino ha indossato ben due volte la maglia dei nazionali italiani terrarani vincitrice del tour drette della luce dell'utcam della trastavette e della cromagno alessandra boifava sigla eccoci abbiamo perso il varo è rimasto completamente bloccato è rimasto scioccato dall'intro e poi guarda che con che faccia che è rimasto tra l'altro lì sta facendo il sasso moro vediamo se rientra il nostro varo eccolo qua ti ha rifrizzato il varo ma porca miseria io ho forse devi pagarle le bollette però è no no devo aumentare un po la banda ecco hai visto la sigla io ho della sigla della sigla non ho più visto niente è andato ho messo un virus dentro la sigla alvaro colpito e affondato esatto allora tu hai già cominciato ale o no 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 ho solo preso tempo ironizzando sulla tua faccia da pilla che è rimasta lì frizzata e basta aspetta in una bellissima espressione immagino in una bellissima espressione no eri fotogenico dai vai pure ti è piaciuto ti è piaciuta l'introduzione alessandra si si stupenda proprio stupenda stupenda ecco non voglio sapere chi è stadio che chi è olio dei due tra me e lui ero che è il più ciccio è un po' più cicciotello quindi sei tu stadio ma va 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 no olio è stadio poi si più alto comunque eh già vedendo le gare che hai vinto sei specializzata nelle 100 km a distanza quella lì tanto che hai un index di 722 ho visto ma per avere questo tipo di prestazione che cavolo di lavoro fai perché ci vuole tempo per preparare per preparare queste gare qua non è da tutti ma non so secondo me è una cosa che hai tu perché alla fine vedi ai atleti che fanno i vertical e non faranno mai le ultra e chi parte già con le ultra come ho fatto io alla fine perché ho fatto un anno facendo delle 40 e già l'anno dopo mi ero buttata sulle 80 e senza fare niente di specifico per arrivare agli 80 se non andare fuori a correre nel tempo che riuscivo perché all'epoca comunque dopo lo raccontiamo meglio lavoravo tutto il giorno e bene o male correvo sì e no tre volte a settimana quando erano tante quindi comunque dopo quando ho potuto correre di più ho potuto anche fare un salto di qualità proprio perché riuscivo ad allenarmi un po' più costantemente alla fine per fare le ultra ho visto che non serve fare tanti tanti chilometri a settimana ma essere costanti e comunque fare fare dei periodi di carico dove una 40 50 chilometri una volta a settimana devi fare per uno o due mesi poi è molto soggettivo perché quello che faccio io magari per qualcuno non va bene magari qualcuno ha bisogno di fare 200 chilometri a settimana se no non si sente a posto con la coscienza qualcuno ne fa 70 e alla fine però non è che ci sia una misura giusta uguale che vada bene per tutti dipende dal motore anche tu è un gran motore alessandra sì e dall'età anche perché rispetto dieci anni fa non è che possa fare tutti i giorni allenamenti da 20 chilometri perché le mie ginocchia le articolazioni tutto va a ramengo e poi alla fine il problema dell'ultra è più un problema appunto di articolazioni che di sistema cardiaco perché non porti il cuore a delle frequenze altissime per cui il problema principale in realtà è proprio articolazioni cartilagini ecco certo stai insegnante allenatrice di nuoto giusto quindi insegna a tutti fai lo scarico lì sì esatto ecco il segreto nuoto pinnato le pinne sono il segreto no però diciamolo a casa non cominciate a menare con le pinne se non l'avete mai fatto perché vi rompete vi rovinate ecco io uso solo il pull per dirti perché sono incapazza uso solo il pull ecco e allora però le pinne sono un buon allenamento per le gambe sicuramente perché comunque carichi a volte ma tu hai fatto anche triathlon allora sì sì hai fatto anche qualcosa di triathlon abbiamo fatto anche quello sì sì sempre su lunga distanza ho fatto due volte l'elbamen che è uno dei più duri che hai qua tra i più duri che hai qua in Europa dopo ci sono gare un po' più ancora più dure come Embran o altre su in Scozia così però l'elbamen è tosto bellissimo eh sì sei un'ex grafica e disegnatrice cosa ne pensi del nostro logo e come lo rifaresti? questo è di due è così non saprei dovrei studiarlo a me piace così non è male sarà contento il magazziniere io ho fatto lice artistico il magazziniere il nostro magazziniere che ci ha dato queste magliette nuove eh ma è carino dai ma si spettacolo con le tre montagne che ci rappresentano i sassimori montagna il pastello no il pastello qua in mezzo è un main eh sì va bene non riesco neanche a sapere non è partito mai perché guardo davanti e il telegrafo ok la panna diventa l'ho provato ma quindi sei passato l'ho provato sì sì boh perfetto stiamo facendo degli esperimenti con l'intelligenza artificiale qualcosa c'è il carino non lo so che già parlare di intelligenza con noi è abbastanza blasfemo esatto no per me no abbiamo sbagliato allora allora hai parlato di nuoto ma il passaggio nuoto pinnato trail come è avvenuto è da schizzoidi lo sai da schizzoidi ma per quello sei mai matura è colpa di mia sorella eh a me piace così magari mi salta l'embolo di far parapendio sai parto io mi butto è colpa di mia sorella il trail perché avendo fatto triatron lei mi diceva eh ma hai fatto le lunghe distanze vieni vieni dai che sei abituata a far fatica però vi confesso che all'epoca cioè io correvo solo su strada e mi faceva schifo dopo ho provato ad andare fuori eh dopo ho provato a andare fuori e lì mi si è chiusa proprio la vena cioè lì ho proprio trovato il mio mondo anzi l'ho ritrovato in realtà il lato selvaggio è capitato così anche a me pari pari ma è un po' capitato a tutti dai tutti veniamo dalla strada detta amore così più o meno sì sì ma sì poi un'altra cosa nel triatron giravi come i criceti che è una cosa che non sopporto e mi pare uno due tre quattro giri di corsa io perdevo già il conto al secondo figurati se ce n'erano otto un casino cioè una noia e dopo ho detto vabbè into the wild diretti e via quindi ti piacciono le ti piacciono le sfide lunghe come vedere trenta volte grosso guai a Chinatown trenta volte ma sei matta adesso ce la racconti questa ma cosa mi hai chiesto cosa ti dà per guardarlo trenta volte ma eravamo bambini voce proprio era colpa questa è colpa di mio cugino che abitava abitava su a Gallio e e un giorno ci fa io e la mia sorella andiamo guardiamo sto film qua che è bellissimo e abbiamo cominciato a guardarlo e non so sarà perché si menavano cu fu eccetera però sai i bambini anni 80 siamo cresciuti con l'ultra violenza quindi passavamo le giornate a guardarlo a impararlo a memoria poi giocavamo facendo le scene adesso non me lo ricordo più ma se me lo chiedevi una volta lo sapevo a memoria eh oh è psicopatica eh beh insomma se ti guarda trenta volte Titanic a te piaceva grosso guai a Chinatown dopo è venuto il corvo perché ho fatto domande sulle storie è perché sei classe si vede che abbiamo gli stessi gusti eh beh siamo classe uguale più o meno i figli che giravano erano quelli quello è c'era il periodo di Van Damme quella gente lì esatto esatto la spaccata nell'angolo della cucina alla Van Damme eh beh chi è che non ci ha provato tanta roba vuoi mettere ci abbiamo provato esatto 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 ho spaccato qualche osso anche il mio cugino io provando a fare sta roba quindi vabbè torniamo al trail che è meglio allora hai indossato la maglia nazionale due volte in Spagna in Thailandia come è andata in Thailandia? si è frizzata si è frizzata si è frizzata no no è rimasta bloccata no aspetta che io lo scriviamo sei bloccata sei bloccata commenti guarda che hai scritto nei commenti pubblici ho scritto nei commenti è bene così sei un falegname sei un falegname si aspetta sei eccola è tornata? ho scritto qualcosa provo no è uscita vediamo se rientra eh ma magari rientra dai si eh dai come va Alvaro? sei carico come è andato ai folendari finché aspettiamo bellissimo il terzo tempo sei andato al terzo tempo e basta cioè sei andato al terzo tempo ho riconsegnato questa sera dei bastoncini al marito di una donna che ha fatto la gara è arrivato lì Daniel mi fa sei di Vicenza? sì puoi gli portare dei bastoncini a una di Vicenza? vabbè ok vabbè insomma fai anche il corriere no e ricordiamo ricordiamo visto che ci siamo che domenica siamo tutti sia io che te siamo all'IM all'IM di Lugo prima edizione all'IM di Lug esatto e vediamo com'è esatto di Lug vediamo se l'Alessandra rientra intanto provo a contattarla è un problema di collezione peggio del mio mi sa eh sì brutto perché siamo a realtà in realtà neanche eh sì poi dovrei tagliare vediamo se vediamo se sì poi le taglieremo sì sì in qualche modo ecco aspetta dispositivo eccola 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 dalla Thailandia è qui eh si vede che quando hai detto Thailandia qualcosa è interferito non prende ho detto Thailandia è sparita c'è proprio esatto chissà cosa ci dirai allora no è perché qua sto in cimale ecco prende un cavolo lei sentita la domanda ecco lei sentita la domanda no 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 ah ha detto torniamo al trail no ha indossato la maglia della nazionale due volte in Spagna in Thailandia come è andata in Thailandia l'anno scorso no l'anno scorso sì l'anno scorso sì l'anno scorso a quest'ora l'anno scorso ero là insieme a sì era noi siamo partiti al 23 mi sembra di ottobre la squadra del lungo e la gara era il 5 di novembre quindi siamo stati giù 15 giorni no 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 si è bloccato di nuovo con i beri ma perché prima andava eh si vede che c'è c'è il temporale magari sarà il maltempo che ne so la nebbia c'è eh poveretta vediamo se mamma mia provo a riaggiungerla vediamo sarà dura eh sì eh sì eh vabbè insomma dai beh spiegaci un po' alla fine ai folendari primo nel 15 sui 15 chilometri è stato il Checco Lorenzi uno dei nostri dai che mi ha detto io ieri ero alla Limone esatto è andata da Canipar che avevo la schiena a pezzi ma se tu hai la schiena a pezzi il giorno dopo vinci i folendari non so quel passaggio lì non l'ho capito poi invece Bonfa è arrivato quinto di notte succede qualcosa Bonfa quinto mi ha detto che è scarico è scarico non aveva aveva era in gruppo con altri due con il quarto e il terzo ma sui 30 chi è che ha vinto sui 30 sai che non lo so perché le premiazioni sulle donne ha vinto la Sofia la mia compaesana la Sofia Tognolo la seconda è arrivata la nostra Martina la Anita ah no la Martina è arrivata ok ottimo quindi tu domenica invece sei sui 15 sì ma che non sono allenato vabbè chi è che è allenato a sto periodo tra l'altro martedì ci faccio che si può il buon Roberto Mastrot mi fa fare il test sui 12 minuti in pista bello e dopo mi dice stai a casa o sassi mori provo a riscrivervi vediamo se riesce a ricollegarsi mamma mia tra l'altro tra tra 10 minuti è l'orario dove ci abbiamo più persone eh insomma purtroppo sono gli inconvenienti della della diretta delle connessioni della diretta vabbè insomma dai succede sì ci sta provando sta provando ok sta provando a entrare si vede che sta cercando un angolo della casa con il computer prende si sposta non sta lì non sta lì esatto quindi comunque finché aspettiamo ripiloghiamo un attimo le interviste che ci saranno prossimamente sì esatto lunedì prossimo lunedì prossimo abbiamo il piacere di intervistare eh l'organizzatore dell'Ecomaratona Clivius della Montefortiana quindi è un grande onore anche perché la mia vecchia società è una gara storica qua da noi è una gara importantissima poi che sappiamo Alvaro? Abbiamo qua mi prendo il programma abbiamo ma vogliamo spiegarlo proprio beh il saluttino con gli atleti lascia stare lo diremo c'è un saluttino c'è un saluttino con gli atleti mamma mia c'è il mondo che vuole vedere un saluttino del genere alquanto ignorante poi per quanto riguarda le gare abbiamo la garda Winter Trail sì la Christmas Trail ci faremo un briefing esatto abbiamo anche pre-alba Winter Trail e poi sono in contatto con Restena Trail che è il 26 novembre però devono confermarli ok eccola qua che sta cercando di collegarsi l'Alessandra non devo buttare video o altro perché se no secondo me insaturo la banda e poi però è ancora lì che sta cercando di collegarsi vediamo se arriva poi mi farei fare opera di taglio e cucito su tutto vabbè qua devi tagliare mamma mia quanto devi tagliare eh ma come faccio con l'audio è un casino mi vorrei essere al tuo posto vabbè ma faccio con calma adesso domani sono in ferie e per chi è dalle parti di Padova mi troverà sui colli Ugani che faccio un giretto sulla TCE mi faccio un giro sulla TCE il vecchio stile parto da Teolo o Teolo quel cavolo che è mi faccio la vecchia TCE io insieme ad altri due amici così in preparazione della gara di domenica mi sa che è qua comunque il terzo tempo che avevano promesso tanta roba tanta roba eh ho visto fumogeni ho visto roba da stadio trovare tre tipi di gin tonic diversi a un terzo tempo tra il sfido minchia c'era il brulè c'era vabbè la solita piera ma figo c'era uno con la motosega che ogni volta la cedeva pazzesco spettacolo spettacolo e nonostante c'era anche un botto di gente è vero ho visto un botto di gente sì ma secondo me senza pioggia sarebbe stato un disastro scappata via la gente eh beh immagino c'è stato il tendone è stato carino eh comunque comunque penso che se ha problemi di connessione sta scrivendo eh secondo me è anche un po' questo tempo maledetto che ma sta scrivendo in chat sì allora ciao col telefono vi sento ma non mi dà telecamera e microfono ahia porco cane eh però lei non la sentiamo eh ma io non la vedo ecco aspetta vediamo vediamo eccola eccomi eccola incrociamo perché ovviamente esatto ovviamente la serata qua c'è un nebbione da paura e nuvole quindi non ho connesso da me c'è temporale da me c'è temporale oggi è agrandinato dove sei? sei in mezzo al bosco in cima alla collina no sono ai piedi delle colline dai in Valpulicella eh no no qua su non prende un cacchio cioè ma che siete pieni di antine di citerici no no non prende niente rifare la domanda Alvaro per cura cosa? allora devi rifare la domanda Alvaro ah no vai vai era arrivata che il 5 novembre avevi la gara in Thailandia e siete arrivati da 80 noi siamo arrivati la settimana prima cioè quasi 15 anni prima l'ambientamento era il di interesse sì che no non c'è stato perché era un caldo umido assurdo cioè per me è la morte io non mi adatto soffro e basta ho sofferto tutta la gara perché avevo già il covid in corso praticamente perché sono tornata col covid thailandese ah quindi bellissimo ci hai portato la variante thailandese esatto ma eravamo tutti impestati comunque e no esperienza mistica ecco non lo farei in un territorio che non è che c'è la passione del trail di Thailandia già no però però c'era la gara open che hanno fatto lo stesso giorno il giorno dopo ma è anche durante il mondiale il giorno prima che c'erano parecchi concorrenti era molto partecipata bene bene c'era gente anche vestita da cowboy uomo ragno cose così però in realtà c'è un movimento anche lì non certo come in Europa o come può essere gli Stati Uniti però Ciammai è una cittadina molto internazionale infatti al di là del casino che c'era in giro tipo 10 milioni di cavi della corrente tutti ingroppati sui cavi del però era una città pulita ordinata tranquilla non ho avuto la percezione del terzo mondo come ho avuto in altri posti anzi è una città ricca dove la gente va in vacanza poi vabbè sei nel triangolo d'oro lì quindi andare nella giungla ad allenarsi potrebbe essere anche pericoloso perché comunque i contadini girano col fucile il macete non sai mai se schizzano male ma io avrei più paura per certi animali ah sì 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 perché io ho subito visto quello che mi fa più schifo in assoluto l'ho visto subito il primo giorno che siamo andati fuori che sono le scolopendere quelle giganti era una besta cioè era stata lunga mezzo metro era spiaccicata per terra per fortuna ma una roba brutta brutta saltata così dopo Tiberti aveva visto anche un pitone una sera che era andato a correre ma appena fuori lì in città quindi avevamo chiesto se erano cobra comunque in mezzo alla foresta devi stare attento dove se uscivi fuori dal sentiero devi stare attento ecco dove metti le mani i piedi poi una parte di gara comunque passavi in una zona molto umida con i torrenti e ti saltavano addosso le sanguisughe quindi bellissimo è proprio roba da in momenti indimenticabili non ho mai corso così veloce come quella volta bruttissimo sì 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 dopo ragni giganti anche in albergo scene ecco diciamo che se non ti piacciono tanto gli insetti non è proprio vabbè ma li li mangiano quindi eh no infatti li fringono è buono tutto fritto buon tutto c'erano vermi gli scorpioni ho visto gli spedini roba così a proposito di cucina di mangiare tu sei una brava cuoca di dolci una brava mi vengono fuori bene ecco ok ci faresti i dolci per la black stones sardini dipende quanti perché cioè non è che ho la forneria allora gli ultimi che arrivano gli ultimi dieci hanno come premio il dolce della boifava perché noi premiamo gli ultimi i primi no o quelli che si perdono o quelli che si perdono ho delle possibilità allora va bene andiamo con un ucci sì dipende quanti ne vuoi devo cominciare una settimana prima allora adesso andiamo sulle domande che mi sono arrivate la prima è di questo scimpanzai che mi sta sopra ecco che mi ha detto ma domandagli se anche le tre runner donne guardano i figazioni uomini beh di solito cioè sì adesso non lo so dipende dai gusti però sì questo sì l'occhio vuole sempre la sua parte bene bene ci fa piacere poi appunto ho fatto il liceo artistico io aspetta dove sei stavo andando via ho fatto il liceo artistico no no infatti poi ho perso per un secondo eh mi ha fatto il liceo artistico e facevamo copia dal vero con i modelli nudi quindi siamo abituati ok l'estetica fa parte guardiamo 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 sì ma è in gara no in gara non siete concentrate solo sulla gara no io in gara come dice la la Silvia Garrote in gara non ti amo cioè non amo nessuno visto che l'hai tirato fuori tu questo discorso qua vero che voi donne siete molto ma molto più competitive dei uomini sì dai sì è vero attivissime però io ti dico che trovo anche degli ometti che quando li superi si attaccano come se non ci fosse domani perché si sentono un po' sviliti non so quelli del patriarcato restano un po' lì però dopo cominci a sentire l'antolo di morte e dici ma lascia stare cioè se ti ho preso ci sarà un motivo no e quindi oppure quelli peggio sono quelli che non ti lasciano passare o in discesa o in salita perché non va bene gli chiedi strada e non ti fanno andare in discesa pensa a te però io non riconosco sti stronzi no vero ma io io ho preso parole solo una volta che quello davanti invece di dirmi passa mi ha detto mi stai troppo vicino è pericoloso ma che cosa vuol dire ma fammi passare no cioè devo starti distante sono in macchina cioè boh la prima volta che quando arrivo sotto uno gli chiedo sempre strada e poi glielo chiedo proprio mi lasci passare stanno zitti e non si spostano e mandano giù il boccone amaro no ma poi poi ci sono delle situazioni in cui devo camminare per stargli dietro perché sennò non riesco perché non riesco neanche a correre proprio va talmente piano dovevo camminare e dico ma mi lasci passare o no no vabbè andiamo avanti così camminiamo e ti viene fuori l'elastico poi è peggio e proprio di oh così vabbè pazienza tanto tra un po' muori e insomma che a voi e ti sotterro no dopo magari i loro superi trovano a starti un po' dietro e dici no lascia stare che ti fai male esatto allora le prossime tre domande sappi che arrivano dai culendari da persone che ti conoscono sanno dell'intervista e allora che già vogliono sapere mi hanno detto vogliono sentirti dire le cose dai vogliono vogliono che lo dica in pubblico esatto se sei un amante delle crono scalate eh come no perché io non lo so spiegami non lo so mi ha detto tutti non le ho mai fatte ho fatto la crono scalata del cavallo l'altra settimana ma basta una all'anno basta ho fatto il vertical del Mont-Marie qui sopra d'Aosta quando era due anni fa basta uno fine non mi piace quando il cuore va sopra i 160 non ho sopporto pensa che noi ci stiamo sempre sopra ma ma io proprio l'intolleranza allora ci sono sono intollerante allattato proprio mi fa proprio irritazione fa allergia allora sì che ti piace le gare lunghe perché eh sì vai con calma eh sì ma la domanda che viene dopo non ha riferimenti ma credo sia dovuto una gara dove hai avuto i battiti sopra i 160 perché mi chiedono è vero che hai ingoiato e sputato fuori due volte non so a cosa ha riferito la domanda cioè la possiamo interpretare no in gara in gara penso ha ingoiato e sputato fuori due volte tuoi compagni di squadra non so ah non so a cosa si riferiscono ho qualche aneddoto non lo so eh ma bisogna cioè bisogna no non lo so può darsi beh c'è qualcosa che ti ha fatto star male due volte e poi allora ah beh successiva che anche qui c'è qualcosa in codice c'è qualcosa in codice nella prossima e devi dire a te cosa vabbè te la faccio siamo sicuri dai dai sì sì quell'altra voglio sapere però eh così ci dicono che vai a fare giochi ignoranti e la DST cosa vuol dire DST a casa di furia a casa di furia esatto a casa di furia facciamo giochi ignoranti sì ma è top secret è top secret ma sei in arenta corsa spero no no anche prove di abilità non manca l'alcol ma DST è blasfemo mi hanno detto sì sì non si può è ripetibile non si può è blasfemia ma è una cerchia bisogna essere eletti per entrare non si può non posso parlarne è proprio massoneria va solo per invito su invito che team interessante gli ultrabericus sono un team interessante esatto gente strana tra i culinari perché poi è è lo stato con due ultrabericus belli ignoranti con chi adesso vogliamo sapere si può dire no dai dilo alvaro top secret massoneria va bene tanto lo viene a sapere dopo me lo scrivi in privato va bene inizia con la G 1 vabbè te lo dico dopo in privato troppo generico dai ultima domanda te la faccio io cosa stai facendo in questo momento quali sono i tuoi programmi per il futuro a breve e lungo termine hai dei sogni e degli obiettivi particolari allora adesso non faccio niente fino a gennaio nel senso che comincio a preparare la corsa bianca tra metà novembre dicembre gennaio che poi è a fine gennaio e penso di fare l'accento quindi spererei che nevicasse almeno da poter correre con i ramponcini perché se no non vado neanche se devo correre sulla terra quindi faccio quella cento miglia di istria ad aprile ok dopo domani corribile dicono è brutta tutta corribile beh dipende cosa vuoi fare allora a me non dispiace correrle queste gare qua perché comunque anche l'ultrabericus cento è un gran collinare dove corri tutto e io mi alleno qua faccio montagna come può essere in valle d'osta il terreno che ho è questo quindi non mi dà fastidio correre correre forte è un'altra roba ma comunque non mi dispiace quindi la centomiglia di istria la voglio provare perché comunque sono sono posti che mi piacciono e poi il primo di novembre provo la lotteria per la western che quello è un sogno ah quello era il tuo sogno grande ah quella la provo dal dal 2017 che provo ogni anno provo da un pezzo sì forse è saltato un anno ma era l'anno del covid probabilmente non avevo gare di qualifica per fare la lotteria ma chi è il Tommaso che c'era andato può essere che Tommaso c'era andato no Tommaso vuole andare anche lui e allora abbiamo già detto che se va uno dopo loro vengono a fare la crew se non prendono anche lui e allora o la Francesca Pretto viene a farmi da da Pacer se mi prendono perché Tommaso non la vuole come Pacer quindi adesso vediamo solo Filippo hanno preso mi sa che solo Filippo finora l'ha fatta che l'ha fatta quest'anno no penso di sì noi ci proviamo sempre dopo spero che non mi prendano quando sono troppo vecchia perché diventa quello è il sogno insomma peggio della LUT peggio della LUT no ma a me la LUT a me piace perché no nel senso a livello di estrazione la LUT sta diventando ah estrazione sì è più difficile meno posti poi in realtà il tuo nome ogni anno viene raddoppiato quindi se quest'anno ne avevi 4 l'anno prossimo ne hai 8 quindi aumenta la probabilità che ti estraggano però ci vuole anche culo c'è chi mai estratto comunque quindi vediamo e quindi forse giugno California se va bene se no vediamo non mezza idea ma forse la UG ci piacerebbe però vederti correre vederti correre con un gadget mal naturo perché tu veramente sì eh pesataglia dovete sapere voi che ci ascoltate guardate che l'Alessandra mette like a qualsiasi cosa pubblichiamo è una cosa incredibile ma dopo ti spiego perché mi ha spiegato qualcuno e allora prima non ci provo io metto a tutti perché mentre guardi la storia non ti costa un cacchio mettere il cuore secondo me è una cosa carina tipo ti ho visto ti saluto capito quindi mentre quando la storia ti premo anche il cuore non costa nulla è gratis cioè la gente è contenta per adesso per adesso è gratis per adesso ecco vabbè perché sembrerebbe che cambiano le regole se le cambiano basta perché sono povera quindi mi voglio bene lo stesso ma è questo sport che ci rende poveri è questo sport che costosissimo io devo ancora dire a mia moglie che ho pagato cosa ho pagato per la lutta ecco fortuna che tante gare adesso con il punteggio non le pago però prima cioè io lo capisco che andare in giro anche trovare i voli viaggiare cioè per me è un costo per fortuna alcune gare non le pago però non è che riesca a farne tante durante un anno anche per quello perché mi va un po' fuori budget gli istruttori di nuoto sono i nuovi poveri quindi eh sì non è che proprio navighiamo nella riccanza diciamo che nuotiamo un po' nella merda quindi l'importante è fare il lavoro che ti piace sì quello sì se fa il lavoro che ti piace il denaro ti pesa meno e quando fai il lavoro che non ti piace ti pagano poco che proprio dici no no quello non è neanche cioè non è neanche umano nel senso che alla fine dici risparmio quasi a non lavorare in certi frangenti perché anche solo per andare fino al posto di lavoro c'hai dei costi se poi non ne prendi abbastanza da coprire le spese minime dico stai a casa almeno risparmi cioè questo cappellino lo devi avere ecco bisogna ma non ha tu lo sei tu lo sei da mettere da mettere alla western state ti metti quel cappellino lì con un fularino giallo col ghiaccio dietro sei super cool bellissimo esatto eh sì poi ti vedono molto questo state molto shocking ti vedono distante esatto 200 metri eh sì eh sì eh no ma mi sentono prima mi sentono te lo faremo avere anche perché siamo quasi vicini io e te io sono zona stassimori coliberici siamo lì ah sì sì e vengo a correre lì quindi ai stassimori ma qui vicino ho i sassimori o prendola io prendola allora arrivo a piedi tu arrivi correndo e andrai ancora meglio di me che hai già fatto 40 km no no passando per i sentieri neanche 15 sì sì da casa mia sì è veloce i sentieri segreti nel labirinto berico dove ci sono le riunioni massoniche esatto la casa di furia la casa di furia esatto allora le domande le abbiamo finite e io vorrei concludere meno una vorrei concludere leggendo delle tue parole delle belle parole che hai scritto sulla LUT 2023 che sono state pubblicate su Spirito Trail le ho lette e ho detto questo qua è il gran finale dell'intervista per chi non ha avuto l'opportunità di leggerle gliela do in questo momento di sentirle tipo audiolibro quindi chiudiamo in bellezza secondo me ti ringraziamo della tua presenza della tua ignoranza perché sei simpaticissima non sei solo forte sei anche simpaticissima e ci ha fatto piacere insomma intervistarsi quindi io partirei grazie a voi e se vuoi salutare Pallora perché poi c'è il gran finale io non vedo la mano dove è? sta dietro guarda c'è che alza bene comincio la leggenda vuole che i nani abbiano intessuto queste pietre con la luce della luna affinché una principessa potesse stare con il suo principe è una questione di chimica le dolomiti sono le montagne di casa e il mio corpo è fatto di quegli elementi le cellule entrano in risonanza e amore profondo attrazione fin nelle ossa sarà per i ricordi da boccia sarà perché io sono carne e sono pesce e queste rocce nel triassico erano coralli alghe conchiglie so solo che sto bene qui su queste spiagge di ghiaia bianca tra mughi prati di anemoni e botton d'oro è un giardino in fondo al mare sollevato fino al cielo sospeso tra le nuve se ci penso mi vedo in Travenances poi salire a Laverau e a caccia sulla piana del Monte Val come milioni di anni fa è per questo che parto per la mia terza luce non sto male ma essere in forma è ben altra cosa non importa lascio in pianura numeri e agonismo e ritorno al nucleo ho solo bisogno delle tre cime di fiamme nel sole del mattino per sciogliere il mio cuore di ghiaccio perché sei tu dove il posto del cuore coincide con quello dello spirito buonanotte a tutti di fiamme e di fiamme